I PDTA devono essere una modalità operativa, che non devono cambiare l'assetto e la struttura dell'azienda, ma devono essere la risposta migliore al paziente. Questo vuol dire lavorare in modo integrato, in modo multidisciplinare, con le risorse che sono a disposizione. Non c'è necessità di mettere l'accento sul bisogno di avere altre risorse, si tratta soltanto di avere dei comportamenti professionali diversi e di credere molto nella collaborazione e nel rapporto tra professionisti e con i pazienti.